Benvenuti in Yarmann & Stuby Yarmann & Stuby è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 2009 da Filippi Yarmann e Thomas Stuby. Da allora, il marchio si è distinto per la sua attenzione ai dettagli e la qualità della produzione, che si riflette nei suoi orologi di alta precisione. Una delle caratteristiche distintive di Yarmann & Stuby è la sua collezione di orologi da golf, dotati di un innovativo sistema di misurazione della distanza. Questi orologi sono in grado di misurare con precisione la distanza dal green, fornendo informazioni utili ai golfisti durante il gioco. Grazie a questo sistema di misurazione, gli orologi Yarmann & Stuby sono stati scelti come orologio ufficiale di importanti tornei di golf, come il BMW International Open e il Dubai Desert Classic. Ma gli orologi da golf Yarmann & Stuby non sono solo funzionali, sono anche eleganti e raffinati. Il loro design è stato curato nei minimi dettagli, con una grande attenzione alla scelta dei materiali di alta qualità, come l'oro, l'acciaio inossidabile e il titanio. Questi materiali conferiscono agli orologi una grande resistenza e durata nel tempo, garantendo un prodotto di altissima qualità. Yarmann & Stuby è un marchio giovane e dinamico, che ha saputo distinguersi nel mondo dell'orologeria di lusso grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla qualità della produzione e all'innovazione tecnologica. La collezione di orologi da golf ha fatto la sua entrata nel mondo di questo sport acquisendo un grande successo, grazie alla sua funzionalità e al design elegante e raffinato. Se sei un appassionato di golf o sei alla ricerca di un orologio di lusso, gli orologi Yarmann & Stuby potrebbero essere una scelta interessante. La qualità della produzione e l'attenzione ai dettagli sono il marchio di fabbrica di Yarmann & Stuby, che garantisce un prodotto di altissima qualità e di grande eleganza.